Ci sarebbe la intenzione di dedicare una strada o meglio una via di Napoli al buon Bud Spencer a un anno di distanza dalla sua morte, dalla sua grave perdita, dalla sua grave dipartita ecco che ci sarebbe questa richiesta che sarebbe stata avanzata dai Verdi partito che vi ricordo è prettamente ecologista la voglia, l'intenzione, la necessità di intitolare una via all'indimenticabile attore partenopeo Bud Spencer ci sarebbe e per l'appunto non è una, per così dire, utopia ma potrebbe essere una ottima nonché eccellente idea dedicare proprio una via del centro ma anche della periferia di Napoli a un'icona, una leggenda che ha saputo veramente interpretare in modo di regio tutto quello che il cinema deve essere visto, goduto e apprezzato e io credo che Bud Spencer sia un grande, sia stato un grande del cinema ed anche quindi della filmologia bene, complimenti dunque a chi ha avuto l'intenzione e a chi ha voglia di intitolare una via di Napoli a Bud ottima idea iscrivetevi, commentate e complimenti di lui cuore grazie a tutti